Querella Juve, gli azionisti coinvolgono Ernst e Young. Benvenuti nel canale. E se ami la Juventus e vuoi rimanere ben informato sulla Juve, iscriviti al canale e clicca il campanello in modo da non perderti nulla. Si apre con una svolta l'udienza preliminare per i bilanci Juventus. Il giudice Marco Picco ha citato la ditta bianconera e il gigante della revisione contabile Ernst e Young come responsabili civili, in sostanza, le due figure in cui, in caso di processo per colpa dell'imputato, le parti civili possono chiedere il risarcimento. La sua eventuale entrata nel processo sarà discussa il 10 maggio. Sono stati gli avvocati di alcuni piccoli azionisti a chiedere il coinvolgimento di Juventus e EI. Tra i 13 imputati, infatti, ci sono due professionisti che si sono presi cura per conto della multinazionale britannica di rivedere alcuni bilanci del club esprimendo, illegittimamente secondo l'accusa auto-opinioni favorevoli. L'esercito degli aspiranti partiti civili conta attualmente una cinquantina di unità. Alcune si sono mosse da sole, altre associazioni di fiducia come Codacons e City. Coloro che hanno acquistato azioni della Juventus intorno al 2019 hanno sperimentato una crescita iniziale del 40% e quindi un crollo di circa il 79%, dice l'avvocato Maria Cristina Macri a nome di una delle sue assistenti. Abbiamo casi, spiega Tiziana Sorriento, legale Codacons, di persone che hanno perso da 5 a 10 mila euro, e anche uno che ha subito danni di 50 mila. Ma gli occhi sono soprattutto su chi non ha partecipato ai procedimenti civili. Consobe era regolarmente in tribunale e ne faceva richiesta. L'agenzia delle entrate, pur essendo stata inclusa nella lista delle persone offese, c'era app in quel senso, il piccolo azionista Marco Bava, conosciuto nelle notizie come la rivolta delle assemblee, vibrava un colpo, come cittadino, mi chiedo perché non è apparsa. Chi ha deciso? Direttore Ruffini? Ministro Giorgetti? O forse la presidenza del consiglio? Assente anche FIGICI? E assenti le due stelle Cristiano Ronaldo e Paolo Di Bala, che sulla base del materiale raccolto di. Vuoi avere notizie veloci ed esclusive su Juventus? Iscriviti al canale e clicca sulla campana per non perderti nulla.